Musica Resterà in carcere per due anni il senzatetto ucraino che per mesi ha molestato baristi e avventori nel centro città. L'uomo arrestato dopo un'aggressione è stato condannato per un precedente. Musica Sfiduciato il sindaco di Ballabio Paolo Bussola, tre consiglieri di maggioranza votano contro il bilancio insieme all'opposizione. Ora si valuta il possibile commissariamente. Disagi sulla superstrada 36, chiusa per ora a seguito di un inseguimento al confine con la provincia di Monza e Brianza. Nei guai un marocchino fermato dopo una folle corsa. Sfida fra le scuole alberghieri lecchesi a cucinare il miglior piatto buono e salutare a lanciare il contest la sezione provinciale della Lega Tumori. Premiati oggi i vincitori. Buonasera a tutti i telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Unica Lecco. In apertura la cronaca resterà in carcere per più di due anni. Il senzatetto ucraino è arrestato dagli agenti della questura di Lecco negli scorsi giorni per aver aggredito un barista del centro città. Per mesi l'uomo aveva infastidito chi vive e lavora in centro Lecco con comportamenti che però non erano mai sfociati, infatti di rilevanza penale. A seguito di quanto accaduto per il senzatetto è stata disposta la custodia a cautelare in carcere. Negli scorsi giorni si è chiuso poi un altro precedimento penale nei suoi confronti con una sentenza di condanna definitiva a più di due anni di carcere. La Procura della Repubblica ha notificato all'uomo l'ordinanza di rigetto della richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali. Il senzatetto ha dunque ricevuto un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano per l'espiazione della condanna. Cambiamo argomento. Sfiduciato il sindaco di Balladio Giovanni Bruno Bussola ha bocciato il bilancio di previsione con il voto contrario, oltre che dalla minoranza anche di tre consiglieri di maggioranza. Di fatto la resa dei conti dopo le polemiche sull'area del barec. Il paese è a un passo dal commissariamento. Balladio è a un passo dal commissariamento. I consiglieri di maggioranza Alessandra Consonni, Luca Pirovano e Marco Petrazzini, dopo aver dichiarato guerra sulla questione dell'area del barec, dove dovrebbe sorgere un nuovo stabilimento industriale in una zona verde, lunedì sera hanno calato l'asso, bocciando il bilancio di previsione da approvare necessariamente entro oggi. Il mancato via libera al documento con i voti compatti della minoranza lascia poche alternative al sindaco della Lega Giovanni Bruno Bussola, 40 anni che aveva conquistato la fascia tricolore nella tornata amministrativa del 2020 con il 55% dei consensi. Quasi scontate le dimissioni, anche se ogni decisione sarà presa al termine del confronto con il prefetto di Lecco Sergio Pomponio. L'aumento delle indennità dagli amministratori è il punto che ha spinto l'ex sindaca e gli altri due consiglieri a cassare il bilancio. In un momento di grave difficoltà per i cittadini, apprendo che nel bilancio trova spazio l'infausto provvedimento che dispone l'aumento delle indennità di sindaco assessori a partire da gennaio di quest'anno, scrive Consonni. L'incremento che scatta sin da ora verrà applicato integralmente dal 2024, quando il sindaco di Ballabio percepirà a 1000 euro l'orde in più al mese. Questo aumento contraddice vistosamente il vincolo morale a non ritoccare a rialzo i costi della pubblica amministrazione. Amareggiato bussola che rimanda ogni decisione alle prossime ore ma non nasconde la delusione. Quanto accaduto, spiega, dimostra che i motivi ambientali dell'ex sindaco Consonni erano solo pretestuosi. L'aumento delle indennità è previsto da una legge nazionale anche nell'ipotesi di una rinuncia. Si tratta di fondi che tornerebbero allo Stato con nessun tipo di beneficio per i cittadini di Ballabio. E si registra un'ulteriore nota sulla vicenda. Non è vero che con il voto sul bilancio abbiamo commissariato il Paese, scrive il consigliere Consonni. Il bilancio può essere riproposto senza problemi tra 20 giorni risolvendo la questione degli aumenti. Bussola può evitare il commissariamento rinunciando all'aumento della sua indennità. Torniamo ad occuparci della cronaca in seguimento con doppio speronamento con la superstrada 36 bloccata per ore. È accaduto oggi, poco dopo, mezzogiorno. I manetti è finito un ventenne. Il giovane incrociata alla pattuglia dei carabinieri ha premuto sull'acceleratore puntando a folle velocità contro i militari per poi dare vita a una fuga che ha bloccato la statale. Al volante della BMW c'era un giovane di nazionalità marocchina incensurato, arrestato dopo aver provato a scappare per i campi. Insieme a lui un'altra persona che invece è riuscita a far perdere le proprie tracce. La fuga è iniziata a Briosco e si è conclusa poco chilometri dopo con l'auto che ha speronato per due volte la vettura dei carabinieri. All'interno della BMW sono esplosi di airbag che hanno impedito i due di continuare la marcia. Il comune di Lecco riorganizza i suoi uffici. C'entro l'estate è previsto il trasferimento del palazzo storico di Via Sassi. Almeno per i prossimi tre anni saranno sei le sedi che ospiteranno i dipendenti comunali. Intanto proseguono gli studi per se scegliere il nuovo unicipio. Il comune di Lecco riorganizza le sue sedi. Sollecitato dalle minoranze, il sindaco Mauro Gattinoni ha illustrato il piano dell'amministrazione. Abbiamo scelto la sicurezza trovando soluzioni che permettessero di svuotare l'edificio storico di Via Sassi che ha ottenuto solo un'agibilità provvisoria di un anno, ha spiegato il primo cittadino in consiglio comunale. Con un atto di indirizzo raggiunta ha identificato le nuove destinazioni provvisorie degli uffici per i prossimi tre anni. Queste appunto sono Via Tubi in forza di una convenzione edilizia della precedente amministrazione e quindi il comune ne entra in possesso a costo zero. Ci sono poi invece degli affitti passivi da pagare alla provincia e ad un privato per quanto riguarda i nuovi spazi già preallestiti in fase di allestimento in Via Marco d'Oggiono, lato 15 dove c'era il provveditorato degli studi, tanto per intenderci. Mentre invece per quanto riguarda i traslochi di Via Bovara nella parte di edificio attualmente destinato all'anagrafe che poi verrà destinato a anagrafe i tributi back office, quindi senza accesso di pubblico, quindi per quei traslochi e per adeguamenti vari, oltre che per il trasloco complessivo, abbiamo stanziato al momento 140.000 euro. Il cronoprogramma redatto dagli uffici prevede che entro l'estate questa iniziativa può venire conclusa. Ci rendiamo conto che a settembre ci troveremmo con delle funzioni distribuite su sei diverse sedi, Via Bovara, Via Sassi, Due Via Marco d'Oggiono, Villa Gomez e Centro Pertini, per quanto riguarda delle sedi operative, anche se il nostro tentativo è quella di avere come unica sede di accesso per il pubblico questa di Palazzo Bovara, tant'è che la funzione URP, chiamiamolo così, è stata centralizzata a piano terra e sempre a piano terra verranno spostate ovvero possibili le altre funzioni. Nel frattempo prosegue la valutazione condotta dal Politecnico sulle diverse possibilità dove realizzare il futuro nuovo municipio. Va da sé che per motivi economici, gestionali, operativi, organizzativi, tutto si può dire tranne che sei differenti sedi siano la soluzione idonea. La Colico Tirano chiude per due mesi e mezzo. A partire dal 26 giugno RFI ha previsto lo stop completo per 75 giorni della tratta ferroviaria per lavori di manutenzione. Si tratta di 70 chilometri di linea su cui quotidianamente viaggiano 64 corse di treni che dovranno essere rimpiazzati da bus sostitutivi. Chiede chiarimenti la CGL, l'Ecco e Sondrio, ci sembra incredibile che è un tema tanto delicato. Passi così in sordina, spiega Andrea Frangiamore, segretario generale dei trasporti. Siamo preoccupati, oltre che per i lavoratori, su cui non è stata ancora data garanzia rispetto agli strumenti da utilizzare in relazione a ferie, casse integrazioni, trasferamenti temporanei o altro, anche per i pendolari e per la stagione turistica. Ci saranno poi gravi ripercussioni ambientali che nel 2022 dovrebbe essere una questione al centro dell'attenzione. Un'opera dell'artista lecchese Fabrizio Martinelli per dire no alla violenza di genere. Tutti i giorni dell'anno, l'iniziativa dell'Associazione Femminile Presente, nata in occasione dell'ultima giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Dire no alla violenza sulle donne non solo il 25 novembre, ma tutto l'anno. Con questo obiettivo l'Associazione Femminile Presente ha deciso di donare un'opera dell'artista lecchese Fabrizio Martinelli al bar Frigerio di Lecco, in modo che chiunque possa vederla, ricordandosi di tenere sempre accesa la luce su un fenomeno che miete ancora tante, troppe vittime. Il 25 novembre noi abbiamo realizzato qui uno spettacolo, ci vuole un patto, e questo patto è il patto che deve nascere nella relazione tra uomo e donna, una relazione che deve essere fondata sulla reciprocità e non sulle strategie di potere. Solo allora le buone relazioni valgono sempre e non soltanto il 25 novembre. Ecco, questo quadro è qui per ricordare a coloro che entreranno in questo locale, che è un locale pubblico nel quale noi abbiamo scelto il 25 novembre di fare lo spettacolo, deve ricordare questa cosa e speriamo che la gente lo guardi, è molto bello, è un'opera d'arte sicuramente di grande significato e speriamo che ricordino questa cosa. Le buone relazioni valgono sempre. Sono stato interpellato per realizzare un'opera contro la violenza sulle donne e io lavoro generalmente con materiali, diciamo, vetroresina, colori del vetro, eccetera, e in questa occasione c'è una forma, si vede un profilo di donna, praticamente, in questa teca che sembra quasi un acquario, dove si muove questo, diciamo, acqua formato sangue, e un pezzo di ferro che è il recupero della tradizione ricchese. Sono intervenuti durante l'inaugurazione, anche a novembre, le persone presenti e sono intervenute con dei puntini di colore che noi vediamo nel quadro giallo, rosso, blu, eccetera, a rappresentare come se fossero dei fiori donati in sacrificio, diciamo, di queste donne che hanno subito violenze. Grazie a Irene Riva e a Femmile presente perché è importante continuare a parlare della violenza contro le donne, ma soprattutto farlo attraverso linguaggi che non siano soltanto quelli verbali, ma quelli più diretti, comunicativi, come l'arte. E la ringrazio anche perché esporla in un luogo pubblico fa sì che ci sia una presa di posizione, un'attenzione che diventa collettiva. La città tutta si unisce e riflette su questo tema così importante. Le due scuole alberghiere di Lecco si sono sfidate per cucinare il miglior piatto buono e salutare un'iniziativa lanciata dalla LIT provinciale e ora portata avanti a livello nazionale. Oggi le premiazioni durante la festa della prevenzione. Oggi è la giornata mondiale contro il fumo. Alla sensibilizzazione sul tema partecipa attivamente la Lega Italiana contro i tumori della sezione di Lecco che con l'occasione festeggia anche la conclusione dell'attività di prevenzione svolta quest'anno nelle scuole. La LILT aderisce a quello che è la proposta di fare una giornata senza fumo completo, cioè che anche i fumatori provino a non farlo. Oltre al fatto di dare dei vantaggi per la salute, dà anche dei grossissimi vantaggi per l'ambiente. Noi abbiamo deciso in questa occasione di concludere anche quelli che sono i nostri progetti nelle scuole perché pensiamo che sia lì dove si ottengono i risultati migliori per la salute. L'anziano che smette di fumare sicuramente ha dei vantaggi, ma il giovane che non inizia a fumare sicuramente con una vita più lunga è migliore perché si evitano tutte le malattie cardiovascolari e le malattie tumorali. I nostri progetti sono per la prevenzione del tumore al seno, per la prevenzione del tumore al testicolo, per la prevenzione alimentare che viene fatta ai bambini anche molto piccoli, un'educazione anche alle vaccinazioni tipo quella per l'HPV che se ben fatta e ben condotta eliminerà un tumore, lo eliminerà completamente. Una giornata ricca di iniziative con le premiazioni dei più piccini e la premiazione dei giovani chef che l'anno scorso si è tradotta in crediti conteggiati alla maturità. Abbiamo cominciato noi in Italia e adesso a livello nazionale c'è un progetto Cibo e Gusto Nazionale Lilt che compende tutte le scuole alberriere d'Italia. Noi abbiamo iniziato con un concorso sulle due scuole che abbiamo nel nostro territorio che sono la Fumagalli di Casatenovo e quella di Casargo, più che nota e conosciuta. I ragazzi dell'ultimo anno sono invitati a fare un pranzo che sia molto buono e molto salutare. Siccome quelli che escono sono gli chef del futuro, sono quelli che cucineranno per tutti, se da lì parte un concetto di cucina buona e sana, logicamente il risultato sarà ottimale. Intanto si pensa già al prossimo anno quando il premio Cibo e Salute sarà esteso a livello provinciale e nella competizione saranno coinvolte anche le scuole professionali triennali. Da quasi 40 anni la cooperativa Due Mani aiuta persone svantaggiate a trovare un lavoro. Oggi sono circa 100 i dipendenti impiegati su diversi fronti, tante le sfide in programma nel futuro. Una mano, anzi due. Da quasi 40 anni la cooperativa Due Mani di DECO aiuta le persone in difficoltà a trovare un lavoro. Coronata nel 1983, la cooperativa ha rinnovato i propri vertici e lancia nuove sfide per stare al passo con i tempi. Abbiamo innanzitutto provveduto a un restyling del logo, dopodiché ci siamo fatti aiutare da ragazzi del centro di formazione professionale e abbiamo un nuovo sito internet www.duemani.it che da ieri è visibile online e poi abbiamo registrato due video, uno emozionale e uno istituzionale, che raccontano la nostra storia. Quali sono i numeri della vostra attività? Quante persone date lavoro e in che ambito? Attualmente abbiamo quasi 100 persone impiegate. Nel corso di questi anni abbiamo dato un'opportunità lavorativa a oltre 1600 persone. I tre filoni di attività sono quello dei servizi, quindi pulizie, igienizzazione, sanificazioni, guardianie, traslochi, trasporti, merci, trasporti persone, la manutenzione del verde e un ultimo filone che è quello di un laboratorio in cui avvengono attività di assemblaggio e di confezionamento. Con quali prospettive vi ha prestate a festeggiare i 40 anni di attività? Abbiamo rinnovato ieri sera il consiglio di amministrazione. Molti giovani soci hanno deciso di mettersi in gioco per guardare al futuro di questa cooperativa che deve dare un'opportunità di lavoro ancora per altri 40 anni e oltre a nuove persone. Nel CDA è entrato anche Maurizio Crippa, socio da qualche mese della cooperativa. Con lui abbiamo seguito un percorso di riorganizzazione e di formazione e grazie a lui la cooperativa sta sicuramente avendo un'evoluzione con dei progetti strategici e di sviluppo. Artisti di strada, mercatini e tante altre iniziative a Colico, centro dell'Alto Lago, già estate grazie alle manifestazioni promosse dalla Proloco in collaborazione con l'amministrazione comunale e le associazioni. Tanti gli appuntamenti in calendario. Vi aspettiamo a Colico per vivere tutti insieme un'estate all'insegna degli eventi. A partire dal 2 giugno fino al 5 ci sarà lo street food lungo tutto il lungolago di Colico. Troverete delle bancarelle di cibo internazionale e nazionale per deliziarvi sulla sponda di Colico. Tutti gli eventi di quest'anno sono in parte novità, in parte sono delle tradizioni. Tornano infatti le cantine a Villatico nella loro sede storica il 18, il 24 e il 25 di giugno. Vi aspettiamo anche in Infopoint per avere tutte le informazioni e tutti i dettagli su questi eventi ma anche sul territorio da scoprire. Ci trovate sia qui in Via Pontile sia al Parco Cariboni. Proloco Colico e l'associazione colichese con l'amministrazione hanno organizzato al meglio queste estate 2022. Ci saranno tantissimi eventi, alcuni storici come quelli di settimana prossima come il picnic sotto la torre e lo street food e a giugno ci saranno anche le cantine di Villatico, sempre molto apprezzate. Quindi l'obiettivo di tutti è quello di far vivere dei momenti unici sia a chi vorrà visitare Colico sia a tutti i residenti. Colgo quindi l'occasione per ringraziare Proloco e tutte le associazioni colichese che ogni anno si spendono per realizzare tutto questo. Vi invito quindi a venire a Colico e a visitare il nostro bel paese con tutti i nostri eventi. Bene, termina così questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo la possibilità di rivedere tutti i servizi andati in onda sui nostri portali e sui social di Unica TV. Grazie ancora per averci seguito. Vi auguro una piacevole serata e vi do appuntamento alle prossime edizioni di questo notiziario. Grazie a tutti.